In questo numero di Agri-Food Magazine cresce il surplus commerciale dell'Unione Europea, ma il rosso ha rischio l'agroalimentare italiano. Il grano duro russo e turco invade l'Italia. Insetti e organismi alieni stanno distruggendo la nostra biodiversità. Cresce il surplus commerciale agroalimentare dell'UE. A novembre ha raggiunto 6,9 miliardi di euro, con un aumento del 3% rispetto al mese precedente e del 27% a fronte del 2022. È quanto emerge dall'ultimo rapporto pubblicato dalla Commissione Europea. Nel novembre 2023 le esportazioni agroalimentari dell'UE hanno raggiunto i 20 miliardi. I principali aumenti riguardano i prodotti trasformati, comprese le preparazioni a base di cereali e quelle a base di frutta e noci. Per quanto riguarda i prodotti importati, a far registrare i maggiori aumenti sono i prodotti del tabacco, lo zucchero, le verdure, le olive e l'olio d'oliva. Le esportazioni dell'UE verso il Regno Unito sono aumentate dell'8% da gennaio a novembre 2023. La Cina è stata la terza destinazione, nonostante un calo del 5% dovuto al calo delle esportazioni di carne suina. Tuttavia alcuni settori hanno registrato un calo. Ad esempio il valore delle esportazioni di cereali è diminuito del 14%. Oltre 6 miliardi di euro, pari al 10% circa dell'export agroalimentare made in Italy. A tanto ammonta il valore delle esportazioni italiane verso i mercati asiatici, che in 10 anni ha messo a segno una crescita del 128%. In base ai dati riportati nell'Instant Report Ismea, il bel paese è in quinta posizione tra i principali paesi esportatori di prodotti agricoli e alimentari verso l'Asia, dopo Paesi Bassi, Francia, Spagna e Germania. La recente crisi in Medio Oriente sta però fortemente condizionando il quadro dei flussi fra l'Asia e il resto del mondo. Tra la fine del 2023 e gennaio 2024 sono crollati i transiti marittimi dal canale di Suez, con i cambi di rotta che hanno comportato un incremento dei costi di trasporto nell'ordine del 40% e un allungamento dei tempi di percorrenza di 7-10 giorni. Uno scenario che rischia di incidere doppiamente sui mercati. Parte dei prodotti normalmente destinati ai paesi asiatici, in particolare quelli più deperibili, potrebbero confluire nei tradizionali sbocchi europei, dove si configurano possibili rischi di surplus e di riduzione dei prezzi. Il commercio agroalimentare risulta esposto alla crisi non solo nelle esportazioni, ma anche nelle importazioni di materie prime e semilavorati. La loro potenziale contrazione potrebbe generare un rallentamento della produzione dell'industria alimentare nazionale. Nel 2023 l'Italia è stata invasa da un'ondata di grano duro russo e turco che ha fatto calare le quotazioni del prodotto nazionale del 15%. Lo rileva un'analisi del centro studi di Vulga all'interno del paper Mare in tempesta sull'impatto delle guerre in corso sul sistema agroalimentare. Le importazioni provenienti da paesi extraeuropei durante lo scorso anno sono aumentate complessivamente del 130%. A trainare questa crescita l'import di frumento duro proveniente da Turchia e Russia, seguite da Canada, più 83%, che resta il primo fornitore, e dal Kazakhstan, più 164%. Una crescita che ha determinato evidenti riflessi sulle quotazioni interne. Dal luglio scorso, infatti, i prezzi del raccolto italiano 2023 sono calati in maniera significativa. A gennaio 2024 le quotazioni hanno registrato un calo di oltre 70 euro a tonnellata rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Se si considerano invece le quotazioni nel mese di giugno 2022, pari a 577 euro a tonnellata, i prezzi del frumento duro nazionale sono calati di circa 190 euro a tonnellata, pari ad oltre il 33%. L'invasione di insetti e organismi alieni portati nelle campagne, nei boschi e nei vivai italiani dai cambiamenti climatici e dalla globalizzazione degli scambi, favoriti dagli scarsi controlli alle frontiere, ha causato danni per oltre un miliardo con gravissimi effetti sul piano ambientale, paesaggistico ed economico. È quanto emerge da un'analisi della Coldiretti, in cui si ricorda che la xylella è arrivata in Italia portata da piante tropicali giunte dall'America Latina e fino ad oggi ha contagiato oltre 21 milioni di piante. Le castagne, spiega ancora Coldiretti, hanno pagato un conto salatissimo per colpa del cinipide galligeno del castagno proveniente dalla Cina, che provoca nella pianta la formazione di galle, cioè ingrossamenti delle gemme di varie forme e dimensioni. C'è anche il punteruolo rosso, originario dell'Asia, che ha fatto strage di palme dopo essere comparso in Italia per la prima volta nel 2004. Ma a preoccupare i vivaisti italiani sono anche le piante aliene importate dall'estero che possono diventare invasive, minacciando la biodiversità, l'economia e la salute. I florovivaisti italiani, con le loro coltivazioni, non solo si stanno impegnando a rendere più belle case, uffici, giardini e città, contribuendo alla lotta allo smog e ai cambiamenti climatici, ma allo stesso tempo si stanno impegnando a preservare la biodiversità nel nostro paese, collaborando con le istituzioni preposte per evitare che le specie vegetali aliene possano diventare invasive. È però necessario che le istituzioni vigilino in modo adeguato sull'introduzione di altri organismi alieni che mettono a rischio il reddito delle imprese. Grazie a tutti.